non conosco nessun Nicola non c'erano non c'erano Nicola che giocavano con me comunque continuiamo un po' la nostra avventura Noir mentre aspettiamo gli altri del Team Rocket no dovrebbe mandare una foto non so come ma dovrebbe mandare una foto chi è il suo? chi è Draga? Draga stai in te dici? I can't even remember the last time I used it allora ciccio lei ti ha detto che è stata che è stata era una vita precedente precedente se ho avuto tante vite accendo e spengo la luce buono ho scoperto qualcosa ho avuto tante vite a Vicenza giocava a football? si chi c'era? c'era Nicola Belluschec? c'era Nicola... oddio non so di ricordare altri Nicola ma sicuramente non Draga non mi ricordo magari Sizi è che non c'ho tanta memoria per i nomi ok allora cerchiamo di capire come cosa stai dicendo? sono uno streamer piscione ah grande Nicolino grande grande bello de casa si che mi ricordo di te ovvio che mi ricordo di te grande grosso bello come va? tutto bene? si dopo mi hanno detto che avevi mi hanno detto che avevi mollato football mi ha fatto incazzare come cosa ho iniziato a fare la vita loca avrei iniziato a fare si scusa è un famoso guest eh ho capito non è così semplice la cosa è un noir fatto bene è ritratto bene qui non posso uscire se devo parlare ancora con Deborah ok photo flashlight fingerprint you know drill the phone 5x5 111 cosa mi ha dato cosa mi ha dato cosa mi ha dato no no attenzione I know molly very well please note this when the same when or not the same missy balance is a trusted friend three terrorist gentlemen n ok ok sono ma chi nicolino stream ma ah fai vedere andiamo a vedere immediatamente sono un attimo finendo la clue dopo andiamo a vedere blackmail missy katsenko oh bene posso andare al club ora c'è un dubbio a menzoni si sente l'audio del gioco vero Pauli me lo confermi come no bro fermo al contrario io 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 no no parlarmi più ti si sente disattivo l'audio del gioco dai devo capire come devo capire come isolare discord ah ah possiamo andare al Caesar al Caesar club va bene però usciamo qui salvato si è salvato devo vedere dragon ah devo andare su il twitch direi ma guarderò dopo dai si va al Caesar one of the most ah andiamoci ci posso andare non ci posso andare ah moglie è la moglie la moglie è la mia moglie molly ma cos'è che gli ha detto scusa no com'è me lo sono già dimenticato madonna 555 932 so come non mi saluis sta arrivando luis bro eccolo un saluis un saluis buon ma non anymore salong da bra Mari Ah eccolo la mappa finalmente Abbiamo la mappa Shintai, main scene Vabbè Zii potresti seguirmi streaming Main scene, main scene, mode story forward Bisho, si bro Croshing, croshing, cannot be rich For the timing in This canale è stato stratos Dovresti essere anche sul mio canale discord Credo Change to the story progression Che te pepe, ok E dopo ti invito allora Anzi Aspetta Ti faccio Ti faccio sentire un po' Ci faccio sentire un po' la pressa chiamò il blu nuovo anno, scoperto da Clawville, ma non da noi abbiamo scoperto un po' di parte prendiamoci un secondo no no non è più Rocket League il video produsse, abbiamo cambiato cioè Paulino tu cosa dici? cosa dico? che dovrei chiudere visto che ho iniziato a giocare a chicken police perché c'è scritto Rocket League ma forse si poteva cambiare ah modifichi informazioni allo streaming ok ok sto cambiando così almeno abbiamo le cose fatte a modo ho le informazioni dello streaming corrette eeeh possiamo dire andare avanti tutte queste novità che io non saprò leggere eeeh 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 ma che veramente bisogna essere testa di cazzo eeeh 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 cobrato cyberpunk nooo not yet bro non ho mai stato buono in storia, ma se non ero vero, questo posto ha stato una città, un ospedale e anche alcuni inseriti segreti di scuola durante i anni in ogni modo, il posto ha guardato i segreti degli anni, e... mi sembra figo sto gioco, con lo schnauzer si si, adesso stavo un attimo vedendo se riuscivo a isolarmi dall'audio ho il gioco, ho tutti, mi serve l'Oden, mi serve intanto mi isolo, però mi serve l'Oden Monika, do you remember me Monika? Buzzbird daia, firma ciccetta posso andare ora Bosco si chiamano lo schnauzer Bosco no, loro non mi interessano ma come no, sei qua per loro ma allo ah, investigativo con qualcosina da prendere che ci devono negli item il fumetto no, vedi sta facendo a folta la lista ah, Mari, eccolo il gallo Mari Linda, Big Bertha, Claudia e Susi tu che prendere Claudia I need to see where it must and most non posso prendere niente, però quindi direi che parliamo con Marty e Marty che small case small case dicevano 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 Piazza o zidai Piazza o zidai Piazza o zidai Piazza o zidai Oh divertiamoci un po' Sì vabbè dai Porca miseria Ho sparato la mamma Ho sparato la mamma Ho sparato la mamma Quanto ho fatto 8.990 Buono buono Più di bosco Meno di mari Ho sparato la mamma e quindi non ho capito ce l'abbiamo è con noi è proprio a parlarci con un bambino oh oh it's getting hot in here can we just skip this part it's new year's after all and you're on duty if I'm not mistaken Martin where do you think you're going that's it boss to serve and protect Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi he's a cop too right only on paper and you know that very well detective I don't want any trouble boss I just wanted to say hi to Monica and then this feather pillow showed up I invited him to grab a quick coffee you can allow him that your coffee breaks usually end up in shooting or brawling oh just a coffee boss I swear oh have a heart it's new year's eve and I haven't seen my old partner for so long how touching you shot him with a shotgun if I remember family quarrel for all the marrow bones of the world get the hell out have a lovely evening you especially fuck off we can't avoid speaking with the chief first and it would be nice to say goodbye we're leaving sweetheart stay safe boys I'm glad to see you two together again I'm afraid you're alone with hey don't make me change my mind you won't Marty I bet you can't wait to get mixed up in some serious truck yep that's true I'm serious boys be careful we're big birds Monica we can take care of ourselves okay but take care of each other too will do Monica yes ma'am the hop dog was like the last warning you can still turn back my eyes lingered on the sign an enormous dog like a neon god with limitless power over cheap hot dogs plastic hamburgers and watered down coffee the cold light called me but I didn't want to get out of the car if we went in my lovely guy peaceful isn't it perchè la città è probabilmente drugga magari è l'unica modo che può essere non ti ricorda di chi? shut up, Marty eh, hai fatto lì, vecchio hey, ragazzi puoi senti? guarda il povero wow, è stato ancora più peggio e chi non ha? sai, la gente è freddo che il grande fio avrà avuto ancora, e le tue Hive Houses sono molto flammabili sembra il quattro di ossa, eh? cosa c'è c'è? cosa c'è c'è? cosa dici? il tuo cuore è pure gold, amico ma sai, non è così facile Clawville non è come si era il quattro di Hopper infatti si chiama Hop eh sì ci hai visto giusto achievement bloccato peccato che non vuoi partecipare al live con me ma saresti un utile dispensatore di tips and toast guarda c'è guarda c'è da due caffè zip guarda c'è da due caffè guarda c'è da due caffè guarda c'è da due caffè qui po' guarda c'è da due caffè non è ma Mogre è un mic il solito barista che conosce la storia della city è sempre una barreleri di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.